musica 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 stiamo parlando della mia fidanzata in ospedale è un video bello quale? guarda quando sto facendo il video ok oggi siamo su super mario super mario mamma mia io forse una volta farò i video su gta online gare malate e invece li farò su minecraft minecraft è pure bello gioca anche blister ciccio gamer anche stepney compratevelo se c'è l'abbonamento su playstation 4 così giocate con pazza luda ci vediamo vi volevo dire una cosa allora ci vediamo in un prossimo video video con anima blocca ciao non ho bloccato non è vero questo non è il mio indirizzo il mio indirizzo è il mio facebook è per saluta vlog il mio invece il mio invece è stepney anima solo il pavore vegas stavi facendo male la faccia ciao papapapapapapapapapapapapapapapap miette a vedere come facciamo il buonese di sapore non è vero ragazzi lui ha parlato prima di fare il video ha parlato da solo io non stavo facendo il video c'è cascato in pieno mamma mia ridillo tutto quando ciao ragazzi oggi faremo le bolle di sapone non da dire sul video facciamo le bolle di sapone lo vedete? è idiota proprio il mio amico è vero che non si vede niente perché ho messo l'immagine troppo e ho fatto sì oggi noi faremo vedere prima il terremoto questo si chiama terremoto si sta facendo il terremoto sta facendo il terremoto tutti cadiamo giù tutti cadiamo giù si sta girando sta cadendo ciao si sta vedendo a te guardate 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 sul nostro video ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi ciao ci vediamo non lo so non lo so tra un mese il mio amico Lorenzo Angelotti è amico di di Bistard ma Bistard è vero proprio che quelli che fai video c'è Lili c'è Lili Bistard e Cicciogliene ah e se vuoi quello da di Stephanie uh è vero Stephanie ciao ciao ragazzi ci vediamo al prossimo ciao